La fuga non mi sembra perché al di là di qualche persona, che lo dico con dispiacere, ha fatto delle scelte non per il bene degli italiani ma per il proprio bene. Quindi questa è una differenza fondamentale tra chi è rimasto in Forza Italia. Poi voglio dirlo anche con forza, nel momento in cui il Presidente Berlusconi aveva bisogno di tutti noi intorno a lui come un solo uomo, c'è chi ha fatto scelte altre. Io questo lo trovo abbastanza imbarazzante per chi ha compiuto certe scelte.